Sono Massimo Valli, sono il trainer LG Ciao Massimo, parlaci della TV alle tue spalle Il modello alle mie spalle è il nostro modello di riferimento, il nuovo LG W7 è un modello nuovo, è il flagship del 2017, perciò un pannello totalmente nuovo rispetto a quello dello scorso anno che riesce a riprodurre il 25% in più di luminosità quello che è speciale di questa tecnologia, di questo pannello, di questo modello è proprio il suo aspetto è un modello molto particolare, è composto da due componenti il pannello vero e proprio, che è quello che vedete alle mie spalle pannello che è super sottile, essendo tecnologia OLED rispetto alla gamma 2016, questi pannelli nuovi 2017 sono in grado di riprodurre una miglior luminosità, il 25% in più sono dotati di un nuovo sistema audio, chiamato Dolby Atmos che è in grado di ricreare un fronte sonoro tridimensionale a 360 gradi, in grado di avvolgere lo spettatore all'interno di un mondo nuovo l'idea è quello che l'audio sottolinei e crei all'interno della stanza in cui è posizionato il televisore un'esperienza cinematografica a differenza dei vecchi 5.1, solo con l'utilizzo della soundbar che vedete nella parte sottostante, il pannello, che ovviamente è parte integrante del modello è in grado di ricreare questo fronte sonoro, in grado di abbracciare completamente lo spettatore una delle altre, ovviamente delle altre caratteristiche è la presenza di tutti i formati attualmente disponibili dell'alta definizione cosa vuol dire? vuol dire che all'interno dei nostri prodotti, di tutta la gamma OLED del 2017 non solo del W7, avete la presenza dell'HDR con il Dolby Vision, dell'HDR 10 e del nuovo standard satellitare HLG perciò veramente il cliente trova all'interno dei nostri prodotti la miglior tecnologia e tutto quello che ha bisogno per gustarsi i propri contenuti mi dici qualcosa di più sul pannello? l'idea di questo prodotto così particolare l'abbiamo chiamato Picture on Wall proprio perché è come se avessimo una finestra che si apre sul nostro muro il pannello montato a parete ha uno spessore di circa 4 mm, un po' meno anche di 4 mm perciò l'idea è proprio quella che abbiamo una finestra sul nostro muro il pannello essendo così sottile ovviamente tutta l'elettronica è spostata nella parte sottostante la soundbar che vedete accoglie all'interno non solo la parte audio ma proprio tutti i collegamenti sia quelli wifi e bluetooth sia quelli HDMI e USB l'idea come vedete è quella di ricreare un fronte sonoro molto potente e molto avvolgente gli speaker che vedete sollevati sono pop-up, cioè si sollevano al momento dell'accensione e servono proprio per ricreare questo suono avvolgente che è tipico del sistema Dolby Atmos sembra difficile da montare, è così? no è semplicissimo da montare, è ancora più semplice per il cliente perché del montaggio ce ne occupiamo noi essendo un prodotto di altissima qualità e di altissima gamma noi offriamo anche un servizio altamente utile anche per il cliente che è quello del montaggio il cliente una volta che avrà il prodotto a casa ci chiama e noi usciremo, ci metteremo d'accordo con il cliente per fissare un appuntamento e noi ci occuperemo non solo del montaggio ma anche del primo settaggio del televisore perciò dai collegamenti cavi antenna, al collegamento wifi, al settaggio generale, al settaggio dell'audio perché l'audio Dolby Atmos si setta in base al proprio appartamento, cioè a propria distanza dai muri all'altezza del soffitto in modo da ricreare questo effetto come vi dicevo prima completamente avvolgente il servizio è premium come televisore mi spieghi in modo semplice che cos'è la tecnologia OLED? la tecnologia OLED è una tecnologia completamente innovativa nei televisori di qualche anno fa, quelli LED, i retroilluminati, il televisore era composto da due parti il pannello e la retroilluminazione la retroilluminazione si occupava ovviamente di dare luce al pannello qua invece abbiamo una soluzione completamente differente è il pannello stesso che è in grado di mettere in autonomia luce e colore in autonomia vuol dire che il mio singolo pixel è la mia unità base e lui è in grado di accendersi e spegnersi indipendentemente dagli antipixel questo mi porta ad avere un nero assoluto e un contrasto infinito questo mi genera dei colori estremamente naturali, estremamente morbidi e mi dà un televisore in grado di riprocurre un'immagine imbattibile perché dovrei scegliere un vostro tv? dovreste scegliere un pannello LG per due motivi principalmente siamo gli unici a fornire un'amplissima gamma abbiamo otto modelli attualmente disponibili con tre tagli differenti e ovviamente siamo gli unici produttori sul mercato della tecnologia OLED e quest'anno come vi dicevo prima abbiamo veramente presentato un prodotto in grado di superare quello dell'anno scorso soprattutto in termini di luminosità e di capacità audio